Viva la strada, prove di penalizzazione l'11, 18 e 19 maggio 2013, anteprima di quello che sarà il nuovo piano del traffico in alcune zone della città, in particolar modo sabato 11 maggio, dalle 10 alle 23, le aree di Via della Crispi, Via del Toro, Nordio e San Zaccaria saranno chiuse al traffico. Sabato 18 maggio, sale a volta sempre dalle 10 alle 23 e domenica 19 maggio con 10 e 19, l'area delle vie Foschiatti, San Maurizio, Fonderia, Sorgente, Erbetta e Largo Barriera. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Trieste, area città e territorio, polizia locale, sicurezza, risorse economiche e finanziarie, sviluppo economico. Sentiamo l'intervista all'assessore realizzata per noi dalla bravissima collega Caterina Tosoni. Assessore, in che cosa consistono queste prove di pedonalizzazione? Allora, noi stiamo entrando adesso nella fase di approvazione del piano del traffico, è già passato in giunta e passerà poi all'esame del Consiglio. Siccome appunto prevediamo l'istituzione di zone pedonali ad elevata pedonalità, dove quindi le zone ad elevata pedonalità sono quelle in cui possono entrare taxi, disabili, bus, soprattutto in alcune aree della periferia interna della città, cioè quella che purtroppo è considerata una periferia, perché sappiamo benissimo e vediamo anche le situazioni critiche che ha il commercio, per esempio in zone vicine al centro, come appunto Largo Barriera, la zona di Viale 20 Settembre. Su queste aree il piano del traffico immagina appunto dei processi di pedonalizzazione, quindi per accompagnare anche l'approvazione del piano, anche in risposta alle esigenze, alle richieste delle circoscrizioni dei commercianti, ma anche dei cittadini che vogliono migliorare la vivibilità nelle loro zone, abbiamo deciso di anticipare, come dire, quello che verrà istituito col piano del traffico con queste prove di pedonalità, che sono chiusure al traffico per alcuni giorni, sono l'11, sabato 11, dalle 10 alle 23, nelle zone limitrofe a Viale 20 Settembre, quindi via Nordio, via Del Toro, via Crispi e invece il 18 e il 19 ci spostiamo più verso Largo Barriera, quindi via Foschiati, via San Maurizio, via della Soggente, via delle Erbette e Largo Barriera stesso. Ecco queste zone vengono chiuse al traffico e diventano il luogo di una festa di rione in realtà, perché c'è stato un fortissimo coinvolgimento anche delle associazioni di categoria, di singole associazioni, dei negozianti, ma anche di Ulisse Fiab, dell'associazione Nati per Leggere, quindi abbiamo messo insieme tutte le energie che potevamo avere per fare in modo che la strada venga abitata in maniera diversa, quindi dai pedoni, dai ciclisti, con attività sia di carattere commerciale sia di carattere anche culturale, perché il programma, questo programma che noi abbiamo messo a punto e che viene distribuito nelle locandine è un programma di minima, quindi con gli eventi diciamo principali aperti alla cittadinanza, ma poi appunto ci sarà tanto di più perché i singoli esercizi poi metteranno fuori banchetti, tavolini eccetera, in modo tale che insomma si viva la strada in modo diverso, infatti l'abbiamo chiamato vivi la strada per questo. Quale impatto ci si aspetta da questo nuovo piano del traffico per la città? Beh, innanzitutto, come abbiamo sempre detto, una promozione di una maggiore pedonalità, ciclabilità e anche un miglioramento delle corsie e dei percorsi destinati a trasporto pubblico, questi sono i principali obiettivi. Ovviamente con un'attenzione però anche, come sapete, per i residenti, quindi con una serie di tariffe anche aggivolate per i residenti, tra l'altro è interessante anche perché lo stesso Saba Italia nel parcheggio di Via della Pietà coglie insomma l'occasione di queste prove di pedonalizzazione per iniziare una politica di tariffe agevolate che poi ci accompagnerà anche nel corso dell'attuazione del piano del traffico. Quindi cerchiamo di mediare anche interessi diversi però con un, come dire, con un occhio di riguardo a quella che è l'utenza, tra virgolette, debole. Quindi l'utenza che si muove a piedi, in bicicletta, come dicevo, sono anche zone di elevata pedonalità perché ovviamente grande attenzione è anche rivolta a chi deve muoversi con veicoli come le persone a diverse abilità e quindi cercare di ottemperare queste esigenze.